Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia. Partiamo subito con gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. In Fipili, a causa del traffico intenso, si segnalano code in uscita alla strassigna provenendo da Firenze. Possibili disagi, invece, a causa di un incidente tra Firenze Scandicce e Firenze Viadotto all'Indiano in direzione Firenze. In A1 si ricorda che, a causa di lavori rimarrà chiuso fino alle 18 di oggi il tratto tra Rioveggio e Aglio in entrambe le direzioni. Sulla statale 12 della Betone del Brennero, a causa dei lavori di ripristino in seguito ai danni provocati dalla piena del fiume Serchio, chiuso il tratto tra Bagni di Lucca e Borgo Ammuzzano. A Firenze si ricorda che, a causa di lavori, fino alle 18 di oggi rimarrà chiusa a Borgo Santa Croce. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!